ciao ragazzi sono le 7.42 e andiamo a scuola oggi è lunedì 6 ottobre e andiamo a scuola Grazie a tutti. Il nome del padre, del figlio, dello spirito santo. Il nome del padre, del figlio, dillo spirito santo. Il nome del padre, del figlio, dillo spirito santo. Il nome del padre, del figlio, dillo spirito santo. Il nome del padre, del figlio, dillo spirito santo. Il nome del padre, del figlio, dillo spirito santo. Il nome del padre, del figlio, dillo spirito santo. Il nome del padre, del figlio, dillo spirito santo. Il nome del padre, del figlio, dillo spirito santo. Il nome del padre, del figlio, dillo spirito santo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.